L'Unione Europea denuncia le ingerenze di Mosca e Ancara nella crisi libica e lo fa attraverso l'intervento di martedì sera alla plenaria del Parlamento a Strasburgo del responsabile della diplomazia. Le cose ci stanno sfuggendo di mano, ha dichiarato Giuseppe Borrell, un po' come è accaduto in Siria. Noi europei, non volendo partecipare a nessuna soluzione militare, ci barrichiamo dietro la convinzione che non ci sia una soluzione militare. In Siria però c'è stata, portata dai turchi e dai russi. Sono sicuro che nessuno sarebbe davvero contento se sulla costa libica, di fronte all'Italia, venissero poste una serie di basi militari della marina militare turca e russa, che controllerebbero entrambe le vie di migrazione illegale verso l'Europa, nel Mediterraneo orientale e ora anche in quello centrale. Le dure parole di Borrell arrivano a pochi giorni dalla conferenza sulla Libia, in programma a Berlino questa domenica, un summit al quale parteciperanno inaspettatamente anche gli Stati Uniti. Nel frattempo l'Italia conferma che non invierà le sue truppe a Tripoli.